Ciao Daniele, la tua prima preparazione come allenatore, le impressioni e tecnicamente su che cosa ti sei basato? Le impressioni sono nulla di tanto diverso da tutte le preparazioni che ho fatto da calciatore, per non male sono quelle le sensazioni, si lavora, si lavora forte, si lavora in maniera molto intensa, non c'è mai la paura di arrivare alla partita con le gambe pesanti o con la stanchezza addosso, perché l'obiettivo è un altro, molto simile a tutte le altre preparazioni, stiamo qui a casa, ne abbiamo fatte già tre o quattro nella mia carriera da calciatore, stiamo bene, la sensazione è bella, perché la prima mia esperienza è sotto questo punto di vista, non c'è niente che mi ha colpito così tanto, tutto molto normale, grande affinità con il mio staff, abbiamo iniziato a lavorare già da tante settimane a questa preparazione, abbiamo già pianificato tutto quanto, quindi nulla di sorprendente o di istantaneo, quindi aspettiamo di avere qualche risposta in più nei prossimi giorni, adesso è tutto abbastanza evidente, insomma ho chiesto a un giocatore al settantesimo come stesse e mi ha detto come ha inizio, sono morto, quindi è normale che sia così e niente, non c'è niente di anormale o di sorprendente. Mister, queste partite chiaramente servono per prepararsi, per poter fare fiato, per poter fare amalgama col gruppo. Dal punto di vista tecnico però il Di Bala, falso 9, è un pensiero che lei ha come soluzione o è ancora figlia della situazione attuale che deve controllare bene la situazione degli attaccanti più o meno in forma o che devono arrivare? È anche figlio del fatto che lui era stato fuori 4-5 giorni e Tami era stato fuori per un piccolo acciacco qualche giorno, quindi non volevo fargli fare più di 45 minuti, quindi per alternarli andava bene quella posizione lì, ma secondo me è una soluzione, anche in vista del fatto che abbiamo in testa l'idea di prendere esterni che possano buttarsi alle loro spalle, che possano dialogare con lui anche quando lui si abbassa, come fa solitamente, ho già cercato anche un paio di volte a profondità, è un ruolo che secondo me lui può fare, a patto che la squadra si muova di conseguenza, se ci si aspetta che lui sia l'attaccante boha o che va in profondità dieci volte per tempo, sbagliamo a metterlo lì, se invece ci muoviamo in funzione sua, in funzione del fatto che abbiamo un centrompista in più, un trequartista in più, un esterno in più, dipende da come lui si muove, è una cosa veramente interessante, secondo me da riprovare, anche perché ci dà molta più copertura sulle fasce, quando mettiamo giocatori più di gamba, più esplosivi. Grazie. Buonasera mister, visto che siamo nel periodo calciomercato, mi toglie una curiosità riguardo a Gheorghi, il Giorgiano, mi cautazze, c'è solo la vostra chiamata che lei ha chiesto diversi posizioni, però Gheorghi non si sentiva, voleva essere attaccante puro, a questo punto se si è sentito male o se si è sentito un po' che non ha fatto abbastanza per portarlo a Roma? Io non devo parlare ai giocatori di altre squadre, insomma, quindi non so quanto sia corretto entrare nel merito, entrare nel merito di quella chiamata, perché poi la chiamata c'è stata e ho avuto una sensazione comunque positiva da parte del ragazzo, però non devo parlare di niente che non sia tattico o del contenuto di quello che era quella chiamata. Salve. Allora parliamo dei giocatori che sono in rosa intanto. Abram, per voi, è ancora un giocatore su cui si può contare, investire, su cui si può anche pensare a un'alternanza col centravanti che state prendendo senza fare nomi? e lo stesso discorso lo vorrei fare per Bove, Bove è un giocatore? Bove, per l'autorato Bove. E chiudendo il capitolo mercato, senza fare nomi perché tanto non li farebbe, al di là di Suleo qui per lui, c'è nella vostra testa l'idea di prendere un altro esterno oltre a Suleo che è in arrivo? Insomma, ormai quello lo possiamo quasi dire. Tammi è un giocatore della nostra rosa, è un giocatore forte della nostra rosa. Poi il mercato ti racconta e ti dice che anche chi pensava di tenere, poi alla fine magari va via e chi pensava che fosse in uscita, poi magari tante volte è rimasto e magari ha fatto delle stagioni incredibili. Ma Tammi è un giocatore importante per noi, potrebbe avere molto mercato perché è un giocatore importante, si è ripreso. Io l'ho visto gli ultimi sei mesi, ma l'ho visto rientrando da un infortunio molto grande. quindi so che quello che ho visto non è il vero Tammi e noi ci puntiamo assolutamente, non c'è nessun problema nel puntare sui giocatori forti e lo stesso vale per Edoardo. Poi insomma, io valuto, vedo, parlo con il direttore quotidianamente, vediamo anche quali sono le opportunità che possono darci il mercato o quello che è la richiesta dei giocatori, perché a volte i giocatori hanno bisogno di più spazio, se vogliono più spazio, scalpitano io, questo lo capisco e devo accettarlo. Invece sull'entrata, sul mercato? Vediamo, vediamo, vediamo. Può esserci anche tutto, ma a volte per parlare di entrate bisogna parlare anche delle uscite, vedere chi esce, chi entra, vedere le opportunità, è un discorso molto ampio, molto legato, è un puzzle, non è che tu vai lì, compri un giocatore o meglio, in qualche circostanza dici voglio quello, non mi interessa, quanti no, a destra, a sinistra o dietro, davanti. Altre volte invece vedi le opportunità che escono fuori durante il mese di luglio, di agosto del mercato e ne approfitti. Buonasera, mister Alessandro Sticozzi, Aste News. Lo scorso anno ha guidato, in parte, ma comunque ha guidato, la rimonta della sua Roma, è la prima Roma che allenerà dalla prima giornata. a livello di percezione rispetto all'avversario che ha provato a rimontare lo scorso anno, li percepisce più vicini o più lontani? Adesso è troppo presto per fare un bilancio, un bilancio magari lo facciamo al primo settembre, poi comunque anche al primo settembre scorso, se mi avessi chiesto se il Bologna me lo aspettavo sotto o sopra, me lo sarei aspettato sotto, invece poi ci sono squadre che sorprendono, squadre che vanno al di sotto, come il Napoli l'anno scorso. Noi dobbiamo guardare il nostro percorso, è il percorso mio, abbiamo fatto parte dell'ultima, 17 partite, 34 punti, è una media che non mi dispiace, dobbiamo migliorarla, dobbiamo migliorarla assolutamente, secondo me stiamo lavorando con la società per portare ancora più qualità dentro questa squadra, affinché migliorare questa media non sia troppo difficile. Fare un bilancio adesso sarebbe ingeneroso, è ovvio che mancano delle posizioni da coprire, mancano dei giocatori, ma la sensazione è che verranno giocatori forti, la squadra sarà forte al primo settembre. Prima arrivano meglio è, però il mercato è così, anche le altre squadre magari non si sono mosse con tantissimi ruoli, con tantissimi giocatori, però magari avranno bisogno di cambiare tutte le cose. L'anno prossimo secondo me noi dovremmo cambiare molto di meno, è un percorso di due o tre anni e non si può volere tutto subito, o meglio, a volte pure io vorrei dieci giocatori in una botta, ma è così e bisogna avere pazienza, perché quello che è poco, ma sicuro, è che la squadra sarà forte il primo settembre, come lo era l'anno scorso, e si seguirà il percorso che abbiamo pianificato, l'ingiovanimento, eccetera, eccetera. Hai chiesto gamba nelle caratteristiche e chiedi pressioni, recupero immediato, anche in allenamento come abbiamo visto. Se adesso, secondo te, c'è abbastanza gamba e se già stai vedendo le pressioni o se ti aspettavi di vederle già e magari non le vedi abbastanza, o il contrario? No, le vedo, le vedo anche lo stimolo e l'allenamento, alcuni giocatori le hanno già assimilate, i primi forse 15-20 minuti ho visto qualche palla recuperata in avanti, molto bene, poi i ragazzi sono stanchi, due giorni fa li abbiamo spappolati, sono stanchi, addirittura ai miei tempi si facevano le corse la mattina della partita, perché queste partite servono, ma non so come spiegarmi, servono, bisogna farle seriamente, ma poi alla fine il risultato conta poco, conta un po' più per se vinci, calmi un po' la gente, se perdi si crea un po' più di apprezzione, ma alla fine noi stiamo lavorando in una maniera giusta, se oggi l'avessi visti tutti a 2.090 minuti mi sarei preoccupato che magari a ottobre arrivavamo lesi. Grazie. 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 Grazie.